Era da poco passata l'una quando un pezzo di cornicione si è staccato improvvisamente, oggi pomeriggio in Corso Alfieri, sopra ad un bar paninoteca in uno dei punti più trafficati della città. I frammenti sono rimbalzati sulla tenda del locale, infrangendosi sul marciapiede sottostante e alcuni calcinacci sarebbero finiti anche all'interno della panetteria lì accanto. Un bello spavento per i due esercenti e per i passanti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di asti, che hanno prontamente messo in sicurezza la zona, transennando il tratto del corso interessato dalla caduta e smantellando i calcinacci ancora traballanti rimasti sul cornicione. L'incidente di questo pomeriggio è il secondo del giro di un mese ad essere interessato e lo stesso edificio.